Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiornare il controller del tuo pc ovviamente qualsiasi controller ps5 ps4 xbox controller della nintendo switch qualsiasi controller che collegate al vostro pc e volete aggiornarlo quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo programma che si chiama driver easy ovviamente questo driver easy ha tre piani quello gratuito e altri due piani che sono a pagamento quindi tu ci clicchi sopra in passato avevo realizzato una guida su driver easy su come aggiornare tutti i driver del pc ti consiglio di guardarla sta in alto a destra nelle schede quindi in questo caso andiamo un attimo su aggiorna qui sicuramente troverai il tuo controller il controller che si chiama adesso ti faccio vedere il mio si chiama xbox 360 controller for windows quindi per aggiornare un driver con driver easy tu vai su gestione dispositivi quindi vai su gestione dispositivi lo trovi direttamente qui il controller io ovviamente adesso vado a collegare il mio controller ho collegato il mio controller ed eccolo qua periferiche xbox 360 questo è il mio controller questo è il mio controller io adesso vado su aggiorna driver cerca i driver nel computer e adesso cosa devi fare io visto che non posso rascaricare il nuovo aggiornamento del controller vado su ti faccio tipo un esempio facciamo caso che prendiamo prendiamo un prendiamo questo ok amd gpo controller facciamo caso facciamo su aggiorna ok facciamo crea manualmente ho già creato un punto di ripristi quindi facciamo continua ha scaricato così l'aggiornamento facciamo installa manualmente facciamo continua ed eccolo qua quindi ti faccio un esempio questo facciamo il controller quindi questa è la cartella che ci ha dato io clicco su questa cartella faccio copia e la vado a mettere qui faccio incolla faccio avanti e ho installato il driver del mio controller che mi ha fatto scaricare driver easy sull'xbox 360 per windows quindi quindi ti rispiego cosa devi fare facciamo finito che questo è il mio controller io lo scarico faccio tutto un processo manualmente perché per quelli che vogliono scaricarlo automaticamente bisogna pagare quindi bisogna pagare questo driver easy quindi tu scarichi così il driver e ti porta su questa cartella questa è la cartella dove stanno i driver da mettere sul tuo dispositivo io ti consiglio di riguardare di nuovo questa guida oppure se hai problemi scrivimi sotto al video e fai così copia e lo metti qua fai avanti hai installato il tuo driver ovviamente driver easy non fa solo questo puoi installare qualsiasi driver su qualsiasi dispositivo che vuoi pure sulle webcam dispositivi software input output audio come puoi vedere devo fare altri aggiornamenti come il realtech pcai fermi di controllo questo dovrebbe essere un realtech pcai per la mia scheda di rete e questo invece realtech hardware support application come puoi vedere i componenti software realtech audio effect realtech audio ecc eccolo qua come puoi vedere sono uguali realtech audio universal service realtech audio universal service io se scarico mi da la cartella e l'aggiorno qua sopra quindi è una cosa veramente pazzesca è una cosa puoi fare manualmente e risparmiare anche i soldi quindi se ti è stato utilissimo questo video su come aggiornare il controller del pc che hai collegato grazie a driver easy tutto in descrizione il link se hai problemi mi raccomando commenta se non hai capito bene la guida riguarda la guida e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao